Siamo arrivati, questa squadra è arrivata in Iannicius, c'è il mio obiettivo di Stato Bianchi, è arrivato a 5 anni fa e alla fine, la squadra è come io sono contento anche per la nuova che ci passava, perché questa squadra città, società, così, comunque la squadra di Serie A con ciò sono totalmente contento. E' d'accordo che la partita si è fermata con quel pareggio di Lopez, è come se si fosse fermato. Noi siamo venuti qua a Bologna a cercare di vincere, a cercare di...